Tra emozioni e sorrisi ci troviamo al liceo classico Morolico. Finalmente i ragazzi sono pronti a tornare tra i banchi. Intanto diciamo che è andato tutto molto bene, che l'organizzazione che noi per tutta l'estate abbiamo in qualche modo preventivato sta funzionando. I ragazzi li ho visti molto emozionati e contentissimi di ritornare nella loro scuola. Siamo tutti molto contenti e abbiamo fatto il possibile per iniziare. Oggi è andata molto bene. Abbiamo visto sui pavimenti le indicazioni, tante sono le misure di sicurezza. Come ci si sta comportando in questo frangente? Le classi sono scaglionate nella loro entrata e in uscita, quindi già sul sito sono state pubblicate le planimetrie della scuola. Ogni aula viene raggiunta attraverso un percorso specifico che nei corridoi è segnalato. Ogni ragazzo appunto sa dove andare. Oggi tutti sapevano dove andare e quella era la loro aula. E poi insomma tutte le regole sono state ben acquisite da parte dei ragazzi, promossi, primo giorno promossi. Noi cercheremo di fare il possibile per mantenere sempre le lezioni in presenza, soprattutto qui al liceo Mauro Ligo. Sul liceo Galilei ci sono problemi, ma quella è un'altra storia, ne parleremo strada facendo. La corresponsabilità è la parte più importante, quella che ci può permettere veramente di sperare in un anno scolastico sereno. I ragazzi sono preparati, lo sanno, sono tre le regole fondamentali, tenere la mascherina, l'igienizzazione delle mani e il distanziamento, dentro la scuola ma anche fuori dalla scuola. Insieme ai genitori, insieme a tutta la nostra comunità e la società in genere, ce la dobbiamo fare. Grazie a tutti.